Buona e santa serata a tutti. Termina questo secondo giorno del mese di giugno, dedicato al cuore di Gesù. Come ogni sera, è giusto benedire e ringraziare il Signore per il dono della vita, per le grazie ricevute, per le prove affrontate. Ma è giusto anche che ci chiediamo quanto io sono stato cuore di Cristo presente nel mondo, quanto ho manifestato l'amore di Cristo in mezzo agli altri. E sera ci consegniamo a Gesù e a Maria e a Lui diciamo a te Signore io affido tutto me stesso, ciò che sono, le gioie, i dolori, i pregi, i tanti difetti. A te, mio Dio, consegno la mia vita. Con te, oh Signore, voglio vivere, camminare, parlare, operare. A te, mio Dio, affido a me stesso, con ciò che sono, per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani. Io sono tuo per sempre. Io credo in te, Gesù. Appartengo a te, Signore. È per te che io vivrò. Io credo in te, Gesù. Appartengo a te, Signore. È per te che io vivrò. Per te io canterò, con tutto il cuore. Ti seguirò, ovunque tu andrai, tra lacrime e gioia, o fede in te. camminerò, nelle tue vie, nelle promesse, per sempre. Cantiamola insieme. io credo in te, Gesù. Io credo in te, Gesù. Appartengo a te, Signore. È per te che io vivrò. Per te io canterò, con tutto il cuore. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. Ci ritroviamo domani mattina per il buongiorno e ricordatevi anche di seguire il commento al Vangelo.